Io penso che se sentisse una cosa del genere Maria, cioè lei introdotta in qualche modo nella Trinità, lei stessa direbbe no, lascia perdere. Nel senso che appunto la grandezza di questa donna sta nel suo discepolato, nel suo pellegrinaggio di fede dietro Gesù e grazie a Gesù quindi nel suo rapporto con Dio attraverso lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo che ha plasmato tutta la sua persona. Quindi una creatura come noi, certo con una esperienza singolare di vocazione del tutto unica, essere la madre del Signore. Però lei stessa direbbe no, no, io non sono Dio, anzi guai a voi se mi adorate come Dio. Talvolta questo sì, nella tradizione della Chiesa, anche attraverso certe raffigurazioni, sembra quasi che Maria sia introdotta nella Trinità. Dio è Dio, Maria è semplicemente una creatura, certo, come la tradizione vivente della Chiesa ci ha sempre insegnato, ad Jesum per Mariam. Cioè possiamo giungere a Gesù attraverso il rapporto con lei, un rapporto filiale, visto che Gesù Cristo stesso ha preso ciascuno di noi e ci ha affidato a lei dalla croce e lei manterrà fede a questa promessa che gli ha fatto il Concilio Vaticano II, su questo la Lumen Gentium ha detto che Maria, adesso che è risorta, perché è assunta in cielo con anima e corpo vuol dire che è risorta, conformata pienamente a Gesù, lui è risorto, lei è risorta, adesso che è risorta si prende cura della Chiesa pellegrinante, cioè di tutti i fratelli e di tutte le sorelle del suo figlio Gesù. Proprio per mantenere fede a ciò che Gesù le ha chiesto, quindi compagna di viaggio in questo pellegrinaggio della fede, madre e modello, modello di fede sì. Sì, la domanda è seria, anche se la risposta nessuno ce l'ha se non Dio, nel senso, non voglio sfuggire a questo, ma sull'onniscienza di Dio, come facciamo a... ecco, certo è che il dogma della Chiesa, la definizione dogmatica di lei come immacolata concezione, va in questa direzione, ma attenti, non dobbiamo fare cortocircuito, quasi che la decisione di Dio abbia risolto il dramma della libertà di Maria, altrimenti riduciamo Maria a un burattino. Quindi, la libertà di Maria rimane piena, perché Dio vuole essere amato da lei in maniera libera, come da tutti noi. Cioè, la predestinazione è il desiderio di Dio che tutti noi, Maria inclusa, ci salviamo, giungiamo alla santità. Lettera agli Efesini, all'inizio, dice proprio così. Dio ci ha predestinati tutti a diventare santi, cioè, se fosse per Dio, tutti diventeremmo santi. Ma Dio stesso ha voluto che la creatura, noi, come Maria, rimanesse libera, perché senza libertà non c'è amore. Allora, in Maria non possiamo giocare questo dogma quasi che, e vabbè, cosa poteva fare, povera donna, se non dire di sì. Eh no, perché a questo punto non è più una donna, è una macchina, è un computer, e Dio non vuole creare dei computer. Quindi, la Chiesa, come è giunta ad affermare questo dogma del, appunto, del concepimento da parte di Maria senza peccato? E è giunta a dire, guardiamo la vita di Maria. Maria, di fronte a Dio, ha detto sempre di sì. Quindi, non ha mai detto di no. Non ha mai commesso peccato. E la Chiesa ha detto, ma allora, significa che sin dall'origine del suo essere è sì. È puro sì. Ma, appunto, il sì implica, per essere un sì d'amore, implica la libertà. Ecco, quindi, attenti ai cortocircuiti su questo. Predestinazione è vicino in italiano alla parola destino, ma il destino non è un concetto cristiano. Noi non crediamo nel destino. Noi crediamo in un Dio che desidera che noi liberamente giungiamo da Lui. Per chi ama giocare a scacchi. Allora, un bravo papà, un nonno, che insegna al figlio, al nipotino a giocare. Evidentemente, gli insegna le mosse e poi deve lasciarlo libero di giocare, no? E un bravo papà, un bravo nonno, non vuole sempre vincere. Perché? Che gusto c'è a continuare a vincere col nipotino o col figlio? Cioè, sono capaci. La sua grandezza, come i grandi che sanno giocare a scacchi, è prevedere la mossa dell'altro. Ecco. E la grandezza di Dio, diciamo così, è prevedere che noi vinciamo. Farci vincere. Ecco. Quindi, la sua grandezza è metterci nelle condizioni in cui noi liberamente facciamo quella mossa che ci porta alla salvezza. E lui è contento di questo. Ma mai una volta Dio violenterà la nostra libertà. Perché altrimenti non ci avrebbe fatto liberi. Ma se non c'è libertà, non c'è amore. E Dio è amore. Se noi stessi, lo dico sempre, perché questo discorso del rapporto grazia di Dio-libertà dell'uomo vale per noi oltre che per Maria. Ecco, se noi stessi desideriamo per avere il cuore pieno di gioia, desideriamo che la persona amata, la moglie, il marito, liberamente ci dica io ti amo con tutta me stessa o viceversa. Ecco. E questo ci dà gioia. Non ce ne facciamo niente di una moglie legata in casa che non può non servirci. Ma appunto, questo è schiavismo, non è amore. Se per noi vale questa legge dell'amore, tanto più vale per Dio. Per cui, chiaro che lui sa tutto. E qui noi non possiamo dire nulla. Questo è proprio il mestiere di Dio. Ma lui farà di tutto perché liberamente gli possiamo dire di sì. E quando noi gli diciamo di sì, noi vinciamo. E lui gioisce dell'averci fatto vincere. Come appunto un bravo papà che insegna a giocare a scacchi al suo bambino. La domanda anche, anche questa è un po' complessa, ma allora, direi così. Dal punto di vista del dogma della Chiesa, abbiamo un concilio, il concilio di Calcedonia 451, che dice Gesù Cristo, una persona, in due nature perfette, natura umana, natura divina. Su questa consapevolezza tutti ci siamo, nel senso che questo è il minimo da credere su Gesù per essere all'interno della Chiesa. Tutti l'abbiamo imparato a catechismo perché proprio è il mistero detto dal concilio, quindi definito in maniera dogmatica per dire il minimo. Ma nei testi, nei Vangeli, c'è, diciamo così, non semplicemente la formula, ma c'è la vita. I Vangeli palpitano di vita, di fatti, di incontri, di parole di Gesù. E quindi lì si vede come questa unica persona, in due nature, perfette entrambe, effettivamente si è giocato nella storia. Si è giocato nel rapporto col Padre. Si è giocato nel rapporto col Padre attraverso lo Spirito Santo. Gesù esultò nello Spirito e disse, e lì c'è una preghiera, Luca 10, 22, ecco. Si è giocato nel rapporto con gli altri, rapporti belli con i suoi discepoli, talvolta critici con i suoi discepoli, cioè partendo anche dalle loro incapacità, rapporti dialettici, conflittuali con tante persone, e anche questo ho dovuto interpretare, rapporti col demonio stesso, quindi col mistero del maligno. Quindi la sua libertà si è giocata nel teodramma della storia. Cosa possiamo dire noi? Allora, alcune cose dobbiamo metterci proprio il cuore in pace, nel senso che la sua natura divina per noi è inattingibile. Noi possiamo arrivare al mistero di Gesù attraverso la testimonianza oculare che ci viene trasmessa attraverso questi testi ispirati, i Vangeli, il Nuovo Testamento, e lì è la fonte principale. Tutto quello che lì non c'è, o tutto quello che contraddice questa testimonianza, non dice il mistero di Gesù. Poi possiamo tentare anche un'altra via minoritaria, ma anche essa molto buona, che è quella di dire Gesù vero uomo. Noi, vere persone umane, dunque i meccanismi, tra virgolette, della nostra libertà, della nostra coscienza, della nostra volontà, ci aiutano a avvicinarci al mistero di Gesù. Quindi è un mistero unico, perché solo lui è il figlio di Dio, però figlio di Dio fatto carne, dunque partendo dalla nostra carne, possiamo dire qualcosa di lui. Ecco, se questo sta, possiamo già procedere verso la tua domanda, dicendo attenti all'uso di alcuni verbi. Gesù sapeva. Il verbo sapere significa tante cose in italiano. C'è un sapere scientifico, matematico, e allora da questo punto di vista Gesù sapeva quello che gli sarebbe successo in maniera certa, matematica. No, perché ci sono in gioco delle libertà. La sua libertà, la libertà di Dio, la libertà dello Spirito Santo, la libertà del demonio, la libertà degli amici, la libertà dei nemici. Quindi questo, quando ci sono in gioco delle libertà, il sapere scientifico fa fatica. Il sapere matematico non tiene. Sapeva nella modalità in cui tu sai che tua moglie ti vuol bene. Beh, allora sì, in questo senso il sapere. Forse è meglio usare altri verbi. Sentiva. Il verbo sentire per noi dice una certezza, ma una certezza morale. Io sento che tu proprio mi vuoi bene. Io sento invece che tu provi antipatia. Anch'io sento antipatia per te. Ecco. Allora, sentiva. Gesù sentiva di essere figlio di Dio. Sì. Questo è dogma. Questo è ciò che ci trasmettono i testimoni oculari. Sentiva di essere figlio di Dio a dodici anni. Ma certo. Lo esprime a suo modo. Io, mamma, che mi stai rimproverando perché mi sono perso a Gerusalemme, io devo essere nelle cose del padre mio. e cosa sono queste cose? E non glielo dice, ma perché forse neanche lui lo sapeva in quel momento. Io... Sapeva la volontà del padre. Certo. La volontà del padre di dare amore a tutti. Certo. Questo lui lo sentiva. Sentiva di essere figlio di Dio in maniera del tutto particolare, a tal punto che nessuno a quei tempi osava rivolgersi a Dio dandogli del tuo e chiamandolo papà. E lui lo faceva. Quindi c'è una singolarità nel suo rapporto con Dio di fronte alla quale noi possiamo solo fidarci di quello che ci hanno trasmesso coloro che hanno vissuto con lui almeno tre anni. Ecco. Ma andare oltre questo... Ecco. Io vi invito a ragionare su questo sentire di essere figlio di Dio che non vuol dire allora si è inventato tutto. Ma chi l'ha detto che il sentire è contro la verità? La maggior parte delle scelte che noi facciamo sono dovute al nostro sentire, non al nostro sapere matematico. Pensateci. Se uno aspetta ad essere certo al cento per cento proprio matematicamente certo della fedeltà di sua moglie non si sposa più. Ma non perché la moglie ma perché e viceversa, viceversa, viceversa. Ci sono delle certezze morali che allora Gesù sentiva di essere figlio di Dio a un anno. Sì che lo sentiva. Come un bambino sente che quella lì è mamma. Tant'è che se si avvicina a Don Franco con la sua barbetta il bambino si mette a piangere. Non mi sente come mamma. Quella lì sì. Ma perché? E perché ha l'odore di mamma, ha il sapore di mamma. c'è un sentire Dio che ha caratterizzato tutta la vita di Gesù dall'inizio alla fine. Ma questo non vuol dire che Gesù sapeva tutto. Quando alcuni Vangeli hanno detto questo la Chiesa ha detto no, questi qui sono Vangeli apocrifi. Gesù sapeva che il sole è al centro e che la terra gira intorno al sole. No. Perlomeno non c'è scritto. Addirittura la fine del mondo. Due Vangeli ci dicono che quando i discepoli hanno chiesto a Gesù ma Gesù quando capiteranno queste cose? non lo so non lo sa né il figlio dell'uomo e nemmeno gli angeli solo Dio ma tu sei il figlio di Dio dovresti sapere tutto. Eh hai perso qualcosa. Il dato neotestamentario coloro che hanno vissuto con Gesù ti dicono che lui ha detto così. E se c'era una cosa che non avrebbero mai inventato era esattamente questa perché gli facevano fare brutta figura e invece dicono ha detto così. Questo non vuol dire che allora non è il figlio di Dio ma appunto il rapporto del sentire consente il gioco delle libertà. Consente la preghiera di Gesù. Una preghiera che piano piano impareremo è una preghiera del tutto singolare noi dobbiamo imparare dalla preghiera di Gesù. Gesù era così sentiva che Dio avrebbe fatto di tutto per il suo bene per il bene di coloro che gli erano vicini che ringraziava in anticipo. Si trovava in situazioni di bisogno reali, non finte. No? Finte vuol dire tanto sapeva già il miracolo che avrebbe fatto e così ha rovinato i Vangeli. No, non sapeva. Però sapeva sentiva che Dio avrebbe potuto fare sarebbe potuto intervenire e allora lo ringraziava in anticipo ha lì 5.000 persone i centri abitati sono lontani sta venendo notte non hanno da mangiare Gesù mandali a casa prima che sia troppo tardi la gente ti sve inizia a svenire e Gesù cosa fa? Non chiede nulla a Dio pensateci prese quel pane 5 pani e 2 pesci e rese grazie cioè rende grazie a Dio per ciò che Dio avrebbe fatto attraverso quei gesti di condivisione che gli hanno portato lì appunto 5 pani e 2 pesci Dio farà e io ti rendo grazie in anticipo tanto sento che tu interverrai bellissimo una preghiera di ringraziamento anticipato e quando Dio trova persone così fa non trova resistenza alla sua potenza e fa appunto servo di Dio ci abbiamo ragionato stasera no? servo di Dio in questo senso perché tu in quel momento rendi grazie non solo dicendo Dio adesso tocca a te non so cosa farai ma adesso tocca a te ma mentre dici grazie ti metti nelle sue mani se c'è bisogno io ci sono Dio e Dio agisce quando Dio trova persone così agisce i santi che sono le memorie originali di Cristo più nitide i santi vedevano sgorgare dalle loro mani gli stessi miracoli di Gesù anzi Gesù aveva detto anche questo farete cose ben più grandi di queste perché perché vi aiuterò io dall'alto ecco questo è il mistero della questo è il mistero questo è qualche aspetto del mistero singolare del rapporto di Gesù con il Padre che è inclusivo non è esclusivo cioè non è che allora io sì perché sono il figlio voi no siete povere creature no io sono venuto sulla faccia della terra precisamente per aiutare anche te a dire tu papà cioè la sua figliolanza divina è inclusiva non esclusiva ci ha donato lo Spirito Santo precisamente per aiutarci a sentire Dio allo stesso modo in cui lo sentiva lui per i grandi santi questo si è realizzato Maria nella sua vita ha realizzato questo mettendosi nelle mani dello Spirito Santo lo Spirito Santo l'ha fatta totapulcra totalmente bella cioè immagine dell'immagine del suo figlio non in maniera meccanica torniamo la stessa domanda di prima ma attraverso la libertà recettiva di Maria sono la serva del Signore avrebbe potuto dire di no ma questi discorsi con i sé non si fanno in teologia c'è il sì un sì che è durato sempre e dunque la Chiesa dice Maria è tutta sì ecco l'immacolata concezione fin dall'origine ha detto di sì prego io penso che si debba guardare a Maria come con lei che ha concretizzato in piedezza quello che è il compito la strada di ciascuno di noi cioè di accogliere custodire far crescere quello Spirito che ci conforma a Cristo giusto giustissimo Maria ecco lei che nella sua libertà è diventata una libertà credente appunto la credente questa è la definizione di Maria la credente e dunque diventa per noi compagna di strada in questo pellegrinaggio della fede che dobbiamo fare anche noi modello e madre cioè dall'alto lei continua a intercedere per noi continua a farsi percepire su questa terra vedremo insieme anche il tema delle visioni continua attraverso dei modi misteriosi ma reali a proteggerci a come ha promesso a Gesù donna ecco tuo figlio e Maria da quel momento lì in poi si è fatta carico di tutti i fratelli e le sorelle di Gesù quindi è modello è compagna di strada ed è madre di giù Grazie.